Tre nuove aule, uno spazio polivalente di circa 100 metri quadri a disposizione anche per attività diverse da quelle scolastiche, con un'entrata indipendente. Spazi nuovi che dalla prossima settimana saranno a servizio di 180 bambini. La scuola media Primo Levi di Santa Lucio di Uzzano si amplia. Era uno degli obiettivi fondamentali per noi, quello di creare nuovi spazi per sempre più una scuola confortevole, quindi sempre più sicura e quindi che potesse accogliere nel migliore dei modi i ragazzi. Di fatto un ampliamento, ripeto, importante perché qui c'è già presente le nostre scuole medie che grazie alla validità delle nostre scuole, alla nostra dirigente scolastica, dei nostri insegnanti, è frequentata da tantissimi ragazzi di Uzzano e non solo. E quindi necessitava di un intervento fondamentale, un ampliamento e grazie anche a una, questa è una sede storica, che prima c'era la società operaia. Un progetto nato due anni fa e che con il nuovo anno scolastico vede finalmente la luce, un investimento di 500 mila euro, contributo interamente arrivato dalla regione toscana. Stamani è emozionante essere qua perché è stata la prima cosa che ho fatto da consigliere regionale, quella di lavorare affinché il consiglio regionale con una legge apposita finanziasse per 500 mila euro la realizzazione di questo ampliamento così importante. La scuola è centrale ma oltre a dirlo bisogna investirci. La regione in questi anni ha investito molto andando anche al di là di quelle che sono le proprie competenze, consapevole che i comuni devono essere supportati nel appunto ammodernamento e sviluppo delle strutture scolastiche. Grazie. Grazie.